Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ma in realtà siamo nella casa Maria Pail, della figlia spirituale, l'americana Maria Pail, mamma di tutti i frati Cappuccini, insigne benefattrice della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio e del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi qui per andare incontro anche le vostre richieste, ecco attraverso questa email che vedete in sovrimpressione spesso raccontate le vostre testimonianze che un po' alla volta stiamo condividendo, ma allo stesso tempo c'è anche qualcuno che chiede di parlare anche del Padre Pio giovane, ovvero del Padre Pio bambino, di quel piccolo Francesco. Oggi voglio attraverso i componimenti scolastici che fanno parte dell'epistolario di Padre Pio, ecco condividere con voi un tema dello studente Cappuccino, fra Pio da Pietrelcina, si tratta di un tema che i curatori dell'epistolario hanno ripreso dal secondo quaderno del giovane frate Cappuccino, che risale al 1904. Lui aveva un tema da svolgere, ecco il tema aveva questo titolo, l'Avaro. Nel secolo III vi fu un pagano di nome Nerone, costruire un uomo molto avaro, non pensava ad altro se non ad accumulare ricchezze sopra ricchezze, per questa cagione meno ancora una vita asprissima. Avvenne poiché in età di circa 70 anni, essendosi gravemente ammalato dopo pochi giorni, passò da questa vita alla morte per andare a ricevere così i castigli della sua vita pessimamente scioperata, scrive il giovane frate. Egli nella sua vita mortale era divenuto così odioso a tutti e perciò dopo il suo passaggio da questa vita fu da ognuno pessimamente sotterrato, fu condannato adunque l'Avaro dal divin giudice per sempre alle pene eterne dell'inferno e Ivi raggiungere doveva passare un gran fiume. Questo infelice, all'aspro ripudio del divin giudice, mentre tutto sconvolto e malinconico se ne andava all'inferno, giunse finalmente al fiume e qui vi trovò Caronte. Costui aveva la cura di trasportare le anime dall'altra parte per poi condurle all'inferno. Caronte nel vedere questo infelice che gli si presentò davanti chiedendogli la mercè per condurlo all'altra sponda del fiume, ma questo infelice, Avaro com'era, si buttò nell'acqua e andò a nuoto, passò dall'altro lato sano e salvo. Qui era l'inferno, si trovò all'entrata, uniti insieme quasi tutti i demoni, questi stupiti al vedere costui passare a nuoto il fiume, stavano consultando quale maggior castigo dovevano imporli. Alcuni di essi dicevano di mandarlo a trasportare le pietre, altri di mandarlo nel bosco, a far legna ed alcuni di fargli riempire una botte sfondata, ma nessuna di queste penitenze era sufficiente. Allora il capo dei demoni disse io giudico che l'unica penitenza sarebbe quella di mandarla un'altra volta a casa per fargli vedere come vengono trattate le sue ricchezze, per farlo quindi più disperare. Ciò piacque a tutti i demoni e sull'istante fu subito eseguito. a tutti i demoni e sull'istante fu subito, a tutti i demoni e sull'istante fu subito